Aveva trasformato la sezione misura di prevenzione del Tribunale di Palermo di cui era presidente e che gestisce patrimoni sottratti ai boss mafiosi in un ufficio di collocamento per incarichi d'oro fondato sulla logica del Do-Ut-TES, nomine di amministratori elargite come favori in cambio di indebiti vantaggi per sé e per i suoi familiari. E così Silvana Saguto, un tempo giudice icona dell'antimafia e ora a giudizio a Caltanissetta per corruzione e abuso d'ufficio piegando l'organizzazione della sua sezione, la direzione dei processi e un tornaconto personale e familiare ha letteralmente violentato la credibilità del contrasto all'associazione mafiosa e per questo che il rappresentante della Procura Generale della Cassazione Mario Fresa ha chiesto alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nella sua requisitoria una condanna esemplare per la magistrata che dal 2015 è sospesa dalle funzioni e dallo stipendio. La più grave tra quelle possibili è la rimozione dall'ordine giudiziario. Il verdetto dovrebbe arrivare a giorni e, come ha notato il Procuratore Generale, sarebbe la prima volta che una sentenza disciplinare taglia il traguardo prima di quella penale. I fatti all'attezione del CSM sono sostanzialmente gli stessi di cui si sta occupando il Tribunale di Caltanissetta, a cominciare dalla nomina ad amministratore giudiziario dell'Avvocato Ghetano Cappellano Seminara in sette procedure liquidate con l'auticompensi. In cambio, ha detto Fresa, la Saguto riceveva l'ingiusto vantaggio del conferimento di incarichi di collaborazione in favore di suo marito, che lucrava il complessivo importo di oltre 750 mila euro. Tante le vicende contestate in 33 capi di incolpazione, la gran parte sono pienamente provate dalle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in sede penale e da testimonianze.